Ciao a tutti ragazzi, quel capopiera oggi giocheremo, eh? Niente! Ehm, tour della mia camera. Sì, tour della mia camera. Lo so, avete già visto solo questa parte della mia camera la scorsa volta, beh, due volte fa, quando ho fatto il video di Tammà e i miei amici c'hanno fatto uno scherzo. Ehm, no, 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 allora, iniziamo dai pupazzi. Guarda, eh, questa è la scorsa. Questi sono tutti i miei pupazzi con la cacca colorata che... Guarda. Salva cacca. Salva cacca. Salva cacca, salva. Ehm, poi il mio picciclo. Sto guardando i video delle acque di Brul. Poi si vede già le 9, 9, 9, 9, coppe che ci tanno sui penni e sui leoni in tutto. Poi, altri miei due pupazzi. Sì, il mio fratello, ciao. Ciao. Stavo, perché del tablet, no. Ehm, questo è il motorino di mio fratello. Non so se si vede. Ehm, i miei altri due pupazzi. Saluta, pinguini. Ehm, i miei altri pupazzi, il mio pupazzo più tenero che tengo, tra poco. A proposito, la terza, perché conosco il film e già sa chi è alla fine del video. Poi la mia tv sto guardando sempre c'è. Vabbè, ragazzi. Lui definisce quelccio e dal prossimo episodio. Ciao ragazzi.